Milano non è una città insicura. Parola del vice sindaco Anna Scavuzzo che difende l'operato della giunta dopo la notte di sangue della scorsa settimana. A breve saranno assunti anche 68 nuovi vigili. Dopo il ponte del primo maggio con bel tempo e anticipi d'estate in tutta Italia, i milanesi hanno trovato mal tempo con pioggia, vento e temperatura impicchiata. Gli esperti dicono che durerà fino a sabato, domenica ai primi raggi di sole. Prosegue l'espansione del gigante del commercio elettronico Amazon. Dopo l'arrivo a Casirate nel Bergamasco, ora il Colosso ha deciso di aprire un deposito anche a Bucinasco, dove saranno assunti 100 lavoratori. Multiculturalismo e periferie è al centro del Festival Internazionale della Poesia, presentato questa mattina a Palazzo Marino. La rassegna si terrà il 12 e il 13 di maggio al MUDEC e sarà l'assaggio di un festival che durerà tutto l'anno. Buonasera, buonasera anche dal TGN. Benvenuti a questa edizione. Dopo l'allarme e sicurezza, dopo la notte di sangue della scorsa settimana, si torna a parlare dell'emergenza criminalità. Tante le voci che accusano la giunta sala di non essere abbastanza ferma nell'affrontare il problema. Il vice sindaco, Anna Scavuzzo, non ci sta e conferma anche il piano per l'assunzione di nuovi 68 vigili. Ci racconta tutto Jacopo Casoni. La notte di follia della scorsa settimana, con i due marocchini irregolari, protagonisti di quattro aggressioni in poche ore e il bilancio di un morto e tre feriti, ha riportato in primo piano la questione sicurezza a Milano. Nei giorni seguenti sono arrivate diverse segnalazioni di altri episodi, meno cruenti, in centro come in periferia, con l'opposizione che parla apertamente di far west. Il vice sindaco e assessore alla sicurezza, Anna Scavuzzo, replica così. È una città grande, è una città con moltissime persone e come tale è una città anche soggetta a criticità. Non credo che ci sia un allarme così emergenziale come qualcuno racconta. Certo, quelli della notte tra giovedì e venerdì sono fatti gravi, ai quali però è stata data risposta immediata con il fermo dei due responsabili nella mattinata successiva. E questo va sottolineato, afferma la Scavuzzo. Sicuramente il lavoro con il Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico ha avuto un salto di qualità importante e una maggior collaborazione porta a un'efficacia che, come abbiamo visto, assicura la giustizia ai malviventi in un tempo davvero impressionante. La sicurezza è una priorità per la giunta sala, insiste il vice sindaco, che conferma poi il piano di assunzioni di 37 agenti e 31 ufficiali di polizia locale con il concorso pronto entro fine anno. Sono soddisfatta di poter contare su una prospettiva così importante anche perché è necessario riuscire ad avere più personale anche in generale i municipi e credo che questo potrà aiutarci. Fra l'altro il corpo sta attraversando un momento anche di riorganizzazione che credo sia particolarmente importante poter contare anche su forze nuove. E sempre parlando di sicurezza, un uomo di 81 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver ferito un transessuale brasiliano con un colpo di pistola alla mano lo scorso 6 aprile in Viale Fulvio Testi a Milano. L'anziano con precedenti aveva avuto poco prima un rapporto sessuale con il trans nell'appartamento di quest'ultimo e dopo aver pagato la prestazione, averlo riaccompagnato, è tornato indietro per sparargli attraverso il finestrino dell'auto con la quale era giunta. Il movente non è ancora stato chiarito, l'anziano non era infatti un cliente abituale e andando via avrebbe detto non devi stare qui, domani ne avrai nuovamente. Mentre invece è stato arrestato, sempre dai carabinieri per tentato omicidio, il presunto responsabile dell'aggressione a colpi di coltello ai danni di un 31enne ferito al volto e all'addome questa mattina a Nerviano. Si tratta di un 28enne italiano, già noto alle forze dell'ordine, che conosceva la sua vittima e sono ancora ignote le motivazioni del gesto. Il 31enne è stato ricoverato presso l'ospedale di Legnano e non è in pericolo di vita, mentre non è ancora stato rinvenuto il coltello. E adesso parliamo del protagonista di questi giorni, ovvero il maltempo. Dopo l'anticipo d'estate della scorsa settimana sono rispuntati gli ombrelli, i giubbotti, con le temperature scese di colpo. Milanesi turisti affrontano come possono questa specie di autunno di rientro. Vediamo. Una giornata così, bigia e cupa, bagnata eppure parecchio, metterebbe di malumore chiunque figurarsi dopo intere settimane così, che se non era estate poco ci mancava, ma proprio poco. E' tornato l'autunno con la gente che maledice il famigerato traffico da pioggia, viaggia con l'ombrello aperto e la faccia un po' così. Si copre perché già che c'era è tornato pure il freddo o comunque il fresco da giubbotto. I turisti sono un po' spiazzati, c'è chi non rinuncia a un bacio sotto la cupola della galleria e parcheggia un attimo l'ombrello. Le scolaresche in gita sbuffano qua e là pensando che tre giorni fa c'erano 26 gradi, anche abbondanti. E chi cerca l'estate, citando Celentano, non può neanche fare un salto nel padiglione a lei dedicato dell'installazione davanti a Palazzo Reale, quella delle quattro stagioni in un quarto d'ora, il visitatissimo Living Nature. Lo stanno smontando, niente da fare. Per entrare in Duomo c'è una fila di ombrelli colorati, i ciclisti si coprono come possono, chi non ha nulla sotto cui ripararsi se la cava con cappucce e orpelli vari, inseguito dai soliti venditori ambulanti che ci hanno messo un attimo a riattivare la modalità pioggia. Le palme in Piazza Duomo, dopo giorni nei quali si saranno sentite a casa, ora tornano a stonare parecchio con il cielo grigio e i nuvoloni minacciosi, ma tant'è l'autunno è tornato e stando agli esperti non se ne andrà per un po', con buona pace di chi sta impazzendo dietro al cambio e ricambio di stagione, che qui davvero non si capisce più niente. Questo è come hanno reagito i milanesi, ma vediamo invece quello che dicono gli esperti, perché questa ondata di maltempo dovrebbe terminare sabato, domenica dovrebbe tornare il primo sole, ma non si sa se il maltempo possiamo archiviarlo definitivamente. Vediamo. Ombrelli impermeabili e giacconi sono spuntati improvvisamente. Cielo nuvoloso, piogge, un generale abbassamento delle temperature. Ci lamentavamo per il troppo caldo, vista la stagione, e adesso siamo stati serviti. Esatto, questa area di bassa pressione mediterranea sta risalendo proprio verso nord e quindi interessa le nostre zone determinando queste nubi diffuse e piogge. Generalmente sono di debole a tratti moderata intensità con appunto un abbassamento delle temperature che sono in calo nei valori massimi. Diciamo che anche nei prossimi giorni le nostre zone verranno spesso influenzate da questa depressione, quindi piogge che potranno presentarsi per gran parte di questa settimana seppur alternate delle pause asciutte e qualche schiarita. Siamo solo a mercoledì, ma già il fine settimana può essere ipotizzato. Fino a sabato la pioggia sarà presente a macchia di leopardo. Ecco, diciamo che da venerdì sera tornerà occasione per qualche nuova pioggia. Infatti ancora in stabilità sabato, specialmente nel pomeriggio, non mancherà anche qualche temporale sul comparto settentrionale della Lombardia. Poi domenica sole prevalente, ma avremo nuovi isolati temporali pomeridiani. Quindi diciamo che nel bilancio del weekend la giornata migliore sarà in parte domenica, ma ancora il temporale, l'acquastone sarà dietro l'angolo, quindi l'ombrello andrà sempre a tenuto a portata di mano. Speriamo che prima o poi lo potremo rimettere negli armadi. Una notizia di politica. Nasce un nuovo partito, non ce ne sono mai abbastanza. Si presenterà infatti ufficialmente a Milano il 10 maggio, Unione Cattolica, un nuovo partito che ha come i capisaldi la famiglia tradizionale di principi universali e indifettibili del cristianesimo. Alla conferenza stampa saranno presenti i vertici del partito, Ivano Tonnolli, Giuseppe Galantino, Vincenzo Palmieri e Derminio Brambilla. Il partito Unione Cattolica, spiega il comunicato, nasce con l'intento di promuovere la rinascita socio-politica, morale ed economica dello Stato italiano. Alla luce della concessione cristiana della vita, come la Chiesa Cattolica testimonia l'intenzione di essere espressione dei cittadini cattolici del mondo cattolico che non si sentono debitamente rappresentati dai partiti che compongono l'attuale scenario politico. Non vi è azione politica costruttiva e generativa di benessere se non vi è la famiglia cattolica e la persona al centro. La sua sacralità è inviolabilità, conclude la nota. Da tale centralità deriva il valore della scuola, dell'accoglienza, della lotta contro la delinquenza, il modello dell'economia, nonché il rapporto con l'Europa e con le restanti nazioni. Restiamo a parlare di cronaca perché un peruviano di 54 anni è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale nei confronti di una parente che ospitava da due mesi nel suo appartamento a Milano. La vittima è una ragazza peruviana di 25 anni, sorella della moglie del figliastro. Tutti assieme vivono nell'abitazione del 54enne che ha sposato una connazionale che aveva già due figli. Uno di questi ha invitato la cognata peruviana in Italia che dal suo arrivo ha sempre dormito in camera con la figliastra. La notte scorsa la 25enne è rimasta però in camera da sola perché la compagna a distanza era uscita. L'uomo così ha approfittato del momento per violentarla. Dopo alcuni minuti la sorella della vittima è andata in bagno e ha sentito il pianto della 25enne sorprendendo sul fatto il padrone di casa. I carabinieri del nucleo radiomobile lo hanno arrestato mentre la ragazza è stata accompagnata alla clinica Mangiagalli per accertamenti. Adesso la pagina dedicata al lavoro continua l'espansione del gigante del commercio elettronico Amazon nel nostro paese e soprattutto in Lombardia. A Casirata nel Bergamasco sono in corso i lavori per un centro merci che darà lavoro a 400 persone. Adesso è stato annunciato che a Buccinasco nel Milanese si assorgerà un deposito merci nel quale saranno assunti 100 lavoratori. Ce lo racconta Alberto Carreras. La notizia è di quelle positive sul fronte occupazionale. Amazon amplia la propria presenza nel nostro paese, in particolare in Lombardia. Oltre 100 posti di lavoro verranno creati nel nuovo deposito di Buccinasco. Il colosso delle vendite online, più volte criticato da dipendenti e sindacati per le condizioni di lavoro eccessivamente stressanti, sta mettendo a punto la ristrutturazione di un capannone da 10.000 m2 per una maggiore velocità delle consegne delle merci. Più flessibilità nello smistamento e nella logistica, ma soprattutto più rapidità nella distribuzione nell'area metropolitana milanese. Sembrano essere questi gli elementi alla base della decisione della multinazionale americana. Un maxi capannone da 10.000 m2 acquisito e riadattato dal colosso della distribuzione di Seattle che conta di creare appunto 100 posti di lavoro a tempo indeterminato nei prossimi anni, consentendo ai corrieri locali e regionali di consegnare gli ordini dei clienti più velocemente, ha dichiarato Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics Italia. Il nuovo deposito di Buccinasco è solo l'ultima testimonianza del crescente impegno di Amazon in Lombardia. A Casirate, in provincia di Bergamo, sono da tempo in corso i lavori per il nuovo centro che nascerà su una superficie di 34.000 m2 e che in tre anni dovrebbe portare all'assunzione di 400 lavoratori. Mattinata di code e di disagi per gli automobilisti che dovevano percorrere via Peschiera a Varese. Un'autocistierna che trasportava latte si è ribaltata su un fianco durante l'attraversamento di una rotonda. Per raddrizzare e spostare il veicolo è stato necessario l'intervento avvenuto intorno alle 7 del mattino dai vigili del fuoco arrivati sul posto con un autogru e un'autopompa. Durante le operazioni il traffico è stato deviato sulle strade limitrofe. Mentre una notizia di cronaca è arrivata ora. Quattro uomini hanno portato via il contenuto di alcune cassette di sicurezza dopo aver fatto irruzione nel cavo dell'Agenzia della Banca Popolare di Sondrio a Milano in Vialessona. Questo pomeriggio i banditi che gli investigatori ritengono siano italiani per gli elementi raccolti sono entrati nella banca col volto coperto e con i guanti. Minacciando i dipendenti con un taglierino si sono fatti aprire il cavo e dopo aver forzato la porta interna con mazza e martello hanno preso alcune cassette scappando prima dell'arrivo dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia Milano Porta Magenta. Ed è ancora da valutare che cosa sia stato asportato. Mentre sono, adesso parliamo di fisco, di rottamazione delle cartelle perché sono Roma, Milano e Napoli, le città metropolitane che guidano la classifica delle richieste di rottamazione delle cartelle. Lo precisa l'Agenzia delle Entrate spiegando che al 26 aprile scorso a Roma e provincia sono state presentate all'Agenzia delle Entrate 57.924 richieste di adesione agevolata. Segue Milano con 26.997. In tutta Italia le domande presentate sono state circa 455.000 di cui la metà attraverso i servizi digitali e la posta elettronica certificata. I contribuenti, lo ricordiamo, che aderiscono alla definizione agevolata pagheranno l'importo residuo delle somme dovute senza le sanzioni e senza anche gli interessi di Mora. Presentata a Palazzo Marino la terza edizione del Festival Internazionale della Poesia una rassegna che avrà come tematiche centrali il multiculturalismo e le periferie. Le due giorni del MUDEC, il 12 e il 13 di maggio è solo la vetrina di un festival già in corso e che durerà tutto l'anno. Jacopo Casoni. Milano, città mondo, con la poesia a fare da tre d'union tra culture diverse da trama e ordito per tessere una storia nuova e antica insieme. E' questo uno dei temi chiave della terza edizione del Festival della Poesia che vivrà i due giorni clu al MUDEC il 12 e il 13 maggio. Sono tantissime le lingue che abitano la nostra città, i linguaggi espressivi ma soprattutto le lingue in forma molto concreta. Credo che questo sia uno dei meriti della programmazione così plurale che è riuscita a realizzare appunto Fernandez. E' il direttore artistico, lui che di questo festival è il padre, racconta lo spirito di questo 2018, iniziato presto, già dalla prima settimana di marzo e che non si esaurirà nella due giorni istituzionale, per così dire. Una rassegna che vive e vivrà nelle periferie. Ad ogni zona di Milano, ad ogni municipio, abbiamo dato uno dei nomi delle città invisibili di Calvino, d'accordo con le caratteristiche di ogni... la nascita, il modo di essere, di vivere la realtà, la quotidianità di ogni quartiere. Abbiamo realizzato eventi poetici che hanno coinvolto una quantità enorme di persone e che continueranno per tutto l'anno. Tanti i nomi che animeranno il festival, oltre 260 i poeti che parteciperanno, da Giancarlo Maiorino a Guido Oldani, passando per quegli autori sconosciuti ai più, ai quali Fernandez ha voluto dare spazio. E poi i tre eventi dedicati a Frida Kahlo, in sinergia con la mostra attualmente al Museo delle Culture, i laboratori di scrittura della comunità psichiatrica Assietta e del carcere di opera. Il Sud Italia, il Sud America, il mondo intero, in questo festival che svela l'invisibile, sta tra la gente di confine, amplia lo sguardo e sposta i margini più in là, rende più grande il centro, a suon diversi. Una notizia che è ricorrente, nel senso che quando si cercano i cognomi più diffusi a Milano, risulta sempre, ogni anno, che il nome più diffuso è U, che è un nome cinese. Ebbene, è anche U il cognome più diffuso tra i titolari, tra i neotitolari, scusate, di imprese, nate a Milano, Monza, Brianza e Lodi. U è infatti il cognome di un imprenditore su cento, tra quelli che hanno aperto un'attività individuale, scrivendola nella Camera di Commercio. Secondo i dati riportati dal registro delle imprese, nei primi nove mesi del 2017 sono 106 nuovi imprenditori che fanno U di cognome. Una decina di loro sono nati in Italia da famiglia cinese. Seguono nella classifica dei cognomi più diffusi Chen, con 72 nomi, Zhang, 47, Zhu, 40. Gli U sono maggiormente rappresentati nel commercio, nell'alloggio e ristorazione, negli altri servizi e nel manufatturiero. Per quanto riguarda invece le costruzioni, è Mohamed il cognome più rappresentativo tra i titolari di nuove imprese individuali, nate nei primi nove mesi dell'anno. Cambiamo adesso argomento. Un convegno presso la Caritas Ambrosiana e la celebrazione eucaristica in Duomo, presieduta dall'arcivescovo, hanno ricordato la figura del cardinale Attilio Nicora, scomparso un anno fa. Il porporato varesino è stato l'inventore dell'otto per mille e anima del concordato, siglato nel 1984 con lo Stato italiano. Sentiamo Anna Maria Braccini. Impegnato per i laici e il sociale, per i sacerdoti, per un equo rapporto al passo con i tempi tra chiese e Stato, rettore, giovanissimo vescovo, arcivescovo e cardinale, figura eminente dell'episcopato europeo, presidente di Caritas italiana, giurista di altissima competenza, esperto a livello mondiale di diritto canonico. Il cardinale Attilio Nicora, scomparso ottantenne un anno fa, era tutto questo. E il convegno intitolato appunto Attilio Nicora, la passione civile di un pastore, promosso presso la sede di Caritas Ambrosiana, ne ha delineato il profilo, con un senso di doverosa memoria grata, ma anche dei frutti che continuano a nascere dal suo insegnamento fecondo. Fin troppo facile richiamare il ruolo fondamentale avuto da Nicora nel lavoro preparatorio che portò al concordato, siglato nel 1984 col governo italiano, e poi naturalmente nell'ispirazione che a lui interamente si deve di sovvenire alle necessità della Chiesa, documento che proprio nel 2018 compie 30 anni. L'otto per mille costituisce circa un terzo di quello che la Caritas Ambrosiana utilizza per le proprie attività. Su che cifre ci attestiamo? Ma noi adesso siamo arrivati a circa 5 milioni ogni anno che viene destinato per attività caritative che la Caritas Ambrosiana appunto gestisce e cerca di trasformare in servizi. Poi la messa in ricordo del cardinale scomparso. Abbiamo da offrirgli anche il tributo dell'affetto, la stima maturata nella conoscenza personale, in quella sobria confidenza di amicizie adulte, di impegni e ideali condivisi. Prima di chiudere, arrivata questa notizia, sapete la polemica tra no vax? Ebbene, c'è uscito un poster, un post scusate, su Facebook e Twitter da un attivista del movimento Siamo, del medico antivax radiato Dario Miedico, che ha detto domani varicella parti per chi lo desidera. Vi aspettiamo alla casa di Milano. Ovviamente questo post ha scatenato la reazione dell'assessore alla sanità della regione Lombardia Giulio Gallera, che ha detto la varicella come il borbillo è una malattia esantematica che può avere gravissime conseguenze. Per questo è stata inserita tra quelle per il quale il vaccino è obbligatorio a partire dai nati del 2017. Per questo chiunque diffonda la possibilità di epidemia è perseguibile penalmente. Quindi sicuramente si è riaperto il fronte della lotta con i no vax. Era davvero l'ultima notizia. Io adesso mi fermo qui, dopo ci sono le previsioni del tempo più dettagliate, anche se ne abbiamo già parlato. A seguire il nostro Nuova Stadio TG, quando Luciano Ridone ci racconta i fatti della giornata. Poi a seguire è mercoledì la nostra rubrica Wax, le donne nel pallone, gossip e curiosità. E poi c'è la lunga, c'è Nuova Stadio con Michele Marchetti e i suoi ospiti che ovviamente seguiranno l'incontro Roma-Liverpool. È tutto, grazie per averci seguito. Arrivederci. Grazie a tutti.